Ciao cari amici, di recente come sapete è arrivato in Russia il Kim Chan-in, il segretario del partito di Corea del Nord, il leader del Corea del Nord, lui ovviamente è una persona molto discussa, per qualcuno un terribile dittatore, per le altre un fratello comunista compagno, dipende dal punto di vista di chi approfondisce l'informazione, comunque questo personaggio con suo bellissimo treno privato ha raggiunto la Russia, a bordo di questo treno, Putin lo ha accolto calorosamente, insieme hanno fatto un giretto, in Russia lui ha mostrato grande enorme interesse per tutto quello che riguarda la tecnologia spaziale, quindi Putin lo ha portato al cosmodromo dove ci sono vari missili russi, poi hanno approfondito all'interno dell'istituto dove vengono creati i motori per i missili e ovviamente di questo incontro si è parlato molto, l'Occidente ha chiamato questo incontro una connessione del male, insomma io ho letto degli articoli molto degradanti, io posso capire che a molte persone per vari motivi non piace Putin, a molte persone non piace Kim Chan-in, a molte persone non piace la Russia, la Corea del Nord però io trovo che spesso quando noi siamo spinti da una più becera propaganda, la demonizzazione di certi aspetti della vita che noi non comprendiamo, non riusciamo a comprendere perché magari manca informazione, siamo ignoranti proprio nella comprensione, non conosciamo la storia oppure diamo per scontato certe cose, tutto questo ci rende illimitati e è così che funziona poi, così che si attacca la più becera propaganda, così iniziano le guerre, disumanizzano il nemico, cercano di raccontare che il nemico è semplicemente un demonio, l'espressione del male assoluto e non si può assolutamente trattare, non si può parlare, non si può con lui fare nessun accordo, bisogna solo eliminarlo, eliminarlo fisicamente, più o meno come adesso stanno parlando da noi qua in Occidente i propagandisti della Nato riguardo alla Russia. Adesso se una persona è russa va eliminata, la cultura russa deve essere cancellata, i russi sono tutti nemici e questa tendenza di demonizzare sta diventando sempre più purtroppo diffusa da noi in Occidente. Ovviamente questo accade non per abbondanza dell'intelligenza e di lungemeranza sia tra nostri leader politici sia tra vari intellettuali, perché se in una società dilaga questa forma di narrazione vuol dire che la società subisce un enorme danno, un enorme danno da parte della sua moralità, della sua etica. Comunque ci sono alcuni aspetti che sono molto importanti da approfondire, mettendo, lasciando da parte ovviamente tutta questa nostra, nostro personale atteggiamento a ciò che possono essere leader di alcuni paesi, ci sono aspetti che non cambiano, rimangono invariati dai nostri atteggiamenti emotivi. L'esempio, il fatto che Russia e Corea del Nord sono interessati entrambi in una collaborazione, rimane invariato dal punto di vista dell'Occidente. Cioè l'Occidente può pensare che loro sono cattivissimi, che loro non meritano assolutamente di vivere su questa terra, ma loro, tra di loro, non prendono in considerazione queste affermazioni e non cambiano il loro atteggiamento. Per loro rimane importante continuare a comunicare, a parlare, a sviluppare la politica. Così, io oggi vorrei raccontare non parte emotiva di questo incontro, questo l'hanno già fatto quasi tutti i giornali occidentali, tra quello che si è scritto negli articoli, tra quello che io ho visto sulle prime pagine, basta e avanza, c'è troppa emotività e poca analisi, diciamo. Qual è l'analisi importante? Al mio punto di vista, non tanto geopolitica, quanto strategica militare, perché molti hanno parlato del fatto che Corea del Nord e la Russia fanno alleanze, è un nuovo asse di male, poi se pensare che con loro c'è la Cina, altri paesi di Brics, a livello geopolitico, un altro giocatore, pa 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 e sui giù. Quello che io voglio oggi approfondire è spiegarvi a voi cosa può cambiare seriamente in guerra. Perché, cari amici, stiamo, come dire, onesti. Se Putin, proprio in questa fase del percorso storico, ha invitato Kim Chan-in, si sono incontrati e stanno facendo delle importanti dichiarazioni apertamente, spiegando a tutto il mondo che loro sono intenzionati di collaborare, vuol dire che il momento storico ha generato questo incontro. Non sono incontrati perché non sapevano cosa fare, perché non avevano niente da fare, hanno detto, ma sì, va bene, dai, io vado in Russia e Putin dice, ma sì, io tanto invito qua Kim Chan-in perché non c'è niente da fare. C'è una situazione molto importante dal punto di vista strategico-militare. La Russia è impegnata in una guerra. Questa guerra, si è già capito, sarà molto lunga, perché così lo vuole Occidente. L'Occidente è anglosassone soprattutto, perché grazie a questa guerra, grazie all'impegno bellico, grazie al sacrificio del popolo ucraino, che viene sacrificato fisicamente. Gli ucraini vengono sacrificati come un agnello sacrificale sull'altare che viene offerto a qualche dio antico, dio pagano di guerra. Questo sta accadendo adesso con l'Ucraina. L'Ucraina è un oggetto sacrificale. In tutta questa situazione è chiaro che la Russia cerca di strutturare la propria base industriale, la propria capacità di produrre industria bellica e anche ottenere gli alliati, gli alliati anche militari, perché quando noi parliamo delle alleanze che sono legate all'Ucraina, noi spesso non mettiamo in prima, diciamo in evidenza, nella prima posizione, un fatto importante che in Ucraina combattono tutti, tutto l'Occidente collettivo. Quando noi parliamo che combattono gli ucraini, noi stiamo mentendo, stiamo mentendo noi stessi, perché quelli che combattono in Ucraina sono soprattutto ormai i paesi occidentali. Una volta all'inizio c'erano gli ucraini, comunque aiutati molto da americani, addestrati da americani con le armi della Nato, già con qualche mercenario, però hanno perso la guerra. Tra maggio ed aprile 2022 la guerra è stata persa dagli ucraini, sono stati costretti a trattare, poi sono intervenuti i politici statunitensi, hanno detto no, trattare non potete, le hanno chiamati in Polonia, in Polonia le hanno spiegato il nuovo andamento delle cose, le hanno cominciato a buttare addosso a loro soldi, miliardi di dollari, dei contribuenti statunitensi e anche dei contribuenti europei dell'Europa occidentale, e questa guerra allegramente è andata avanti, anche se dall'inizio era chiaro che non può essere vinta. Perché il senso di questa guerra non è vittoria, ma la lunga durata che permette all'impianto bellico, all'impianto speculativo finanziario e all'impianto farmacologico statunitense di guadagnare enormi soldi. Loro non hanno bisogno di vincere nelle guerre, loro questa cosa l'hanno capito già nella seconda guerra mondiale. La guerra per loro si vince economicamente grazie alla speculazione sulla morte degli altri, l'importante è che viene combattuto fuori dal loro territorio. Quello che loro fanno in tutta la loro storia, hanno vinto pochissime guerre, però su tante guerre hanno guadagnato un sacco di soldi vincendo a livello geopolitico, perché a livello geopolitico loro diventano potenti proprio grazie a uno strumento come la guerra. Queste cose ovviamente lo sa Putin, queste cose lo sanno il leader dei paesi Briggs, e Putin sa benissimo che l'Occidente collettivo adesso combatte tutto unito contro di lui. Lui ha bisogno dei forti e fedeli aliati. Aliati che le possono aiutare in qualcosa. In cosa può aiutare la popolare Repubblica di Corea del Nord? Loro soprattutto riescono a fornire quei tipi di armamenti sui quali oggi si base quella tipologia di guerra che sta svolgendo in Ucraina. In Ucraina la base di guerra consiste da scambio di artilleria. Voi immaginate che hanno calcolato più o meno che dall'inizio di intervento russo sul territorio ucraino, cioè dall'inizio di operazione speciale militare, gli ucraini hanno sparato 2 milioni di proiettili, di artilleria, tutta, tutta artilleria, vengono calcolate tutti i sistemi, a partire dai mortai, passando per tutti i obici e finendo con razzi reattivi non guidati. Lanciatori sia sovietici che statunitensi, come ad esempio Imars. 2 milioni è tanto per questo tipo di guerra, per questo tipo di territorio. In effetti noi vediamo le distruzioni delle città come Mariupol o stesso Artyomovsk, che una volta si chiamava Bachmut. Tutta questa distruzione è dovuta proprio ad alta intensità del fuoco di artilleria. I russi hanno tanti obici, però gli obici russi, da sempre, questa è proprio una tipologia degli obici russi, loro sono scarsi nella precisione e nella distanza. Per quale motivo? Perché, cari amici, il modo in cui utilizzano gli obici russi è fondato sulla strategia di quantità e non di qualità. I russi sono abituati a schierare i riparti grandi degli obici dietro le linee e vincere con massicci attacchi di artilleria, per loro è importante che un riparto di obici riesca a sparare, riesce a sparare contemporaneamente con grande velocità più proiettile possibile. E quindi il potere di fuoco che si sprigiona sul territorio del nemico, lì non ha importanza se un colpo caduto a 5 metri lontano dal luogo dove avrebbe dovuto cadere. Perché comunque la tipologia di esplosione, la tipologia di potenza che si sprigiona dopo l'esplosione di questo colpo, diciamo, lì i metri sono irrilevanti. Più importante, la capacità di sparare veloce e in grande quantità. Così i sovietici da sempre costruivano gli obici, così questi obici funzionano anche adesso. In Russia ci sono pochissimi sistemi di obici altamente precisi. Ultimamente i russi stanno facendo tipologie di obici di semoventi di grande calibro come ad esempio Pion, come Malca, gli stessi tra l'altro hanno anche ucraini, Pion hanno anche ucraini, perché sono tutti obici sovietici. Tutti questi obici sono comunque pochi. La differenza? Fanno grandi schieramenti. Mentre gli obici occidentali hanno il problema inverso. Sono pochi, ma sono precisi e tirano più a lungo. Hanno più lontananza, diciamo, più distanza di tiro. Nella situazione in cui si trovano russi, loro ovviamente non cambieranno adesso la loro strategia, loro continueranno a utilizzare stessa strategia, anche se utilizzano sistemi di precisione, come ad esempio il proiettile per l'artilleria, proiettile guidato che si chiama Krasnopel, che è in realtà una specie di, diciamo, un proiettile che viene corretto durante il volo. Mentre lui percorre la sua traiettoria balistica verso l'obiettivo che deve colpire, può essere corretto. C'è un speciale programma, c'è un computer, un tablet, all'interno di questo proiettile c'è un sistema e quindi questo proiettile può essere corretto, altamente preciso. Però questi proiettili non sono tanti. Non si può in una giornata tirare contro il nemico 8.000 di queste munizioni o 10.000. Si tira, non so, un centinaio contro gli obiettivi scelti, mentre nel duello di artilleria si usano i colpi normali. Per questo i russi hanno bisogno della quantità dei colpi e tipologia di obice ai quali loro sono abituati. E proprio Corea del Nord, un paese che per tutta la vita si prepara alla guerra di questo tipo, perché Corea del Nord non ha fatto altro che riempire magazzini di munizioni e di armi pensando che si ripeterà la guerra che ha diviso la Corea, del quale tra l'altro una delle prime guerre tra americani e sovietici sul territorio nel nuovo mondo post-hitleriano. Quando Hitler è stato sconfitto, la guerra di Corea è stato il primo grande scontro tra sovietici e americani. Quindi da quei tempi lì, Corea del Nord si prepara per un'altra guerra. Loro hanno tantissimi sistemi, tantissimi sistemi di artilleria, obici, obici si muoventi. Io adesso non so se c'è qualcuno di voi che in qualche modo conosce, ma magari qualcuno ha letto, c'è un obici si muovente M1989 Caxan si chiama. Quello ha un lungo raggio del colpo e ha una munizione da 170 mm che è una munizione molto potente, più potente di quella delle munizioni della Nato da 150, contiene più esplosivo. E loro hanno diversi tipi di munizioni, munizioni di frammentazione che vanno a 40 km, poi ci sono munizioni fatti apposta per lunga gettata che vanno a 60 km e quelle sono cifre molto migliori dei modelli della Nato. Qua parliamo di obici che possono sparare veloci, possono sparare in grande quantità perché i coreani le hanno costruite tantissimi, hanno tantissime munizioni e sono precisi e hanno una lunga gettata. Per cui solo questi obici per la Russia già presentano un importante aiuto in questo tipo di guerra. Poi hanno anche sistemi di razzi reattivi, hanno altri sistemi di obici. Comunque la cosa importante è che Corea del Nord ha enormi magazzini di munizioni, in differenza a quello che facevano i russi e ucraini insieme. I russi e ucraini insieme avevano al momento del crollo dell'Unione Sovietica i magazzini sovietici contavano 4 milioni e mezzo di munizioni per l'artilleria, per gli uobici. Cari amici, gli ucraini le hanno venduti, i russi le hanno venduti perché questi paesi sono trovati nel periodo, la Russia nel periodo degli anni 90 si è trovata in mano ai ladri che hanno praticamente cominciato a vendere tutto quello che era il complesso militare a destra e a manca. Lo stesso facevano gli ucraini. Quindi se noi oggi abbiamo le statistiche, io sinceramente parlando anche quando leggo alcune statistiche russe, non mi fido fino in fondo perché se non mi fanno vedere concretamente il magazzino pieno di un certo tipo di munizioni che corrisponde a quello che è scritto sulla carta, allora lì io crederò. Ma se a me mi dicono che noi secondo i nostri calcoli abbiamo un tot di milioni di munizioni, io sinceramente non credo perché io so benissimo che negli anni 90 hanno fatto delle razzie di questi criminali che stavano nell'esercito proprio per questo tra l'altro Putin li ha mandati via, li ha licenziati, messi in galera, alcuni fatti fuori, per questo il Ministero della Difesa, con Putin non avevano ottimo rapporto fino a metà di anni 2000 perché lui ha in pratica distrutto tutto il loro sistema di corruzione. Immaginate quanto roba hanno rubato e quanti ancora oggi luoghi dove magari nel deposito ci sono 200.000 proiettili per l'artilleria effettivi quando invece andate a vedere sulla carta sono non so 800.000 così ad esempio anche quando noi parliamo se voi ricordate le problematiche di Wagner quando Prigogen urlava domandava al Ministro della Difesa dove sono le munizioni quale problema era? Il Ministro della Difesa indicava a dei riparti militari di fornire le armi alla Wagner però questi riparti militari avevano magazzini che da anni segnavano più munizioni di quelli che avevano effettivamente loro non potevano fisicamente inventare queste munizioni quindi creavano tutti i problemi cercavano di fare di tutto ricuperavano i proiettili vecchi che dovevano essere distrutti insomma c'era tutto un sistema di corruzione che tra l'altro stesso Prigogen denunciava in Corea non c'è tutto questo Corea è un paese dove avete visto per ovvi motivi tutto funziona così come ha comandato compagno Kim e quindi loro adesso tranquillamente denunciano hanno annunciato questo è un dato preciso loro hanno 8 milioni di munizioni per l'artilleria se cari amici anche un terzo di questi 8 milioni i coreani daranno alla Russia con le armi con i loro sistemi di obici i russi potranno tranquillamente per prossimi anni insomma creare grossi problemi al blocco occidentale in Ucraina io credo che motivo principale per cui è venuto il leader coreano Kim Chan-in in Russia è proprio questo si tratterà di un accordo tra l'altro io vi vorrei ricordare magari non tutti hanno capito che Kim Chan-in tra vari tra vari luoghi dove lui c'è stato lui non è che è andato a Mosca a visitare il mausoleo sono andati in una città Kamsamolsk-su-Amur una città siberiana perché si va con la visita ufficiale a Kamsamolsk-su-Amur per quale motivo a Kamsamolsk-su-Amur cari amici c'è una delle più grandi fabbriche in Russia che produce gli aerei su 35 aerei da guerra tra i migliori aerei che ci sono nel parco di aeronautica militare russa unico problema che hanno i nordcoreani con il loro esercito con i loro armamenti è l'aviazione il loro parco aereo è abbastanza ridotto gli aerei sono vecchi e ovviamente loro vorrebbero rinnovarlo e qua io penso che ci sarà un accordo qua ci sarà un accordo di scambio cioè Putin manderà una ventina trentina di aerei al compagno Kim con i specialisti militari che staranno lì a Nord Corea prepareranno i specialisti gli insegneranno di volare su questi nuovi aerei mentre Kim darà alla Russia il supporto negli uobici nell'artilleria diciamo è uno scambio di un'arma molto tecnologica con un'arma di base però in questo momento storico è l'arma di base che fa la differenza in guerra per cui io credo che la principale motivazione di questa visita sia legata proprio a questo accordo legata proprio a questo scambio di sistemi militari per approfondire per insomma commentare io vi invito di farlo nei vostri commenti io penso che le opinioni sono tantissimi vi ricordo solo cari amici per favore siate educati siate pazienti nei confronti anche di chi cerca di provocare non lasciamoci cadere nei tranelli perché ci sono persone che vivono solo per provocare per creare dei dibattiti inconcludenti inutili online quindi siate per favore seri e cercate di essere in grande linee calmi ed educati commentando le cose amici per approfondire queste e altre informazioni come sempre vi invito di abbonarvi al mio canale telegram dove ci sono tantissime notizie che il nostro mainstream non condivide non vuole condividere così riuscite ad aprire un po' la vostra mente capire come funziona il mondo vedere il mondo non solo da un punto di vista ma da punti di vista diversi il link per l'abbonamento al mio canale telegram voi potete trovare nella descrizione a questo video se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like condividetelo con i vostri amici commentatelo e ovviamente vi invito anche di iscrivervi al mio canale youtube per me è questa cosa molto importante in tutte le librerie d'Italia c'è un mio nuovo libro che si chiama la guerra e l'odio il libro che racconta le origini della guerra in Ucraina se vi interessa questa tematica se volete sapere come quando perché questa guerra è iniziata vi invito a leggere questo libro poi magari fatemi sapere cosa ne pensate vi mando un forte abbraccio e vi voglio bene e vi voglio bene grazie